scusate è possibile prendere la patente certo siamo qui per questo venga avanti signore non si preoccupi prego grazie sa com'è il signore vorrebbe prendere la patente non si illuda piloti si nasce non si diventa le sue generalità alfonso tommasi arrivederci ma che arrivederci deve salire dall'altra parte deve evitare lei da questa parte io eh io eh la patente la deve prendere lei si si va si ma che fa vuole salire si o no si 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 e salga dove salga stia calmo su o no calmo ma il traffico il traffico mi 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 nervosisce ma veda questo succede a tutti basta passare i primi minuti di paura e poi tutto diventa un giochetto si lo dice lei lo dico io eh eh stia calmo eh vabbè basta le fa eh 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 non è colpa mia ma lei si rilassa si si rilassa si rilassa si rilassa si rilassi si rilassa si rilassa mi rilassa igualurli Si rilassi, si rilassi, parlavo del cambio, parlavo, ma non così, si rilassi, si rilassi così, si rilassi, calmo, il cambio, metta la prima, io mi rilascio, e metto la prima, dove la metto, come dove la mette, se la mette, deve mettere la prima, ecco, ma dove la mette, metta il piede sulla frizione, mette il piede sulla frizione, L'ultima, 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 no, così, dai mi scatta tutto quanto, stia cavolo, l'urlino, è lei, è lei, è lei, è lei, metta il piede sulla frizione, ecco così, leggermente, ora metta la mano sul pomello del cambio, la mano sul pomello, la mano sul pomello, ora prescia da giadaggio, e inserisca la mano, Ecco così, accendiamo il motore, accendiamo, stia calmo, stia calmo, ecco così, stia calmo, ora vado rallentando la frizione, adaggia, 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 ad mi sta facendo impazzire lascia la frizione dove sta la frizione? io non ho spento il motore a mettere piede sulla frizione il motore ecco ci siamo con dolcetta metti la mano che il cambio ci siamo